Anche Estra alla Leopolda di Firenze alla prima edizione estiva dell'Open Summit di Startup Italia dedicato alle start-up che a dicembre premiò la Multi Utility per la sua capacità di innovazione. Consegnato a Gianni Minà il premio alla carriera del concorso giornalistico Estra per lo sport 2018, il popolare scrittore giornalista non aveva potuto presenziare a Prato alla cerimonia dello scorso ottobre. Dalla Toscana alla Sicilia, passando per Abruzzo, Marche e Campania, è tempo di Estra Day, gli alunni delle medie che hanno preso parte ad Energia in Squadra, il concorso promosso da Estra e Legambiente. Tempo di premiazioni anche per i piccoli leoni di Roar, il concorso di educazione ambientale di Estra e Straliguto Teatro che ha coinvolto 130 classi elementari e 3.200 alunni di Ancona, Rezzo, Prato e Siena.